5 metri, noi a brevissimo, tempo fa abbiamo istituito il parcheggio orario attorno a Piazza Vittorio Emanuele. Scusi, non ha servito a noto, non ha servito a noto. Ti dico che è servito perché il secondo passaggio è quello di mettere il parcheggio a pagamento, Piazza Garibaldi, Piazza Vittorio Emanuele e Piazza di Vagno, questo lo faremo nelle prossime settimane perché questo serve innanzitutto a disincentivare l'utilizzo della macchina perché per fare 50 metri si prende la macchina, non serve, dobbiamo imparare ad andare a piedi, a muoverci a piedi e questo alleggerirà ovviamente il traffico nel centro anche perché insieme all'istituzione del parcheggio orario attorno alle tre piazze di cui ho parlato, istituiremo il parcheggio orario perché è evidente che noi vogliamo evitare poi che chi non parcheggia nelle piazze vada a parcheggiare nelle vie nelle immediate vicinanze, questo non sarà consentito perché con il parcheggio orario poi nelle vie tramite cui si accede alle tre piazze consentiremo di alleggerire decisamente e quindi a disincentivare l'utilizzo della macchina. Per quanto riguarda l'isola pedonale, al di là delle questioni dei commercianti, il punto è che istituire via Roma come un'area pedonale definitiva è un problema legato piuttosto alla viabilità che alle esigenze dei commercianti. Noi stiamo predisponendo il piano del traffico, questo serve a capire l'intera viabilità sul territorio comunale anche perché i cambiamenti che si sono avuti sul tessuto anche urbanistico della città ha portato anche a modificare i flussi di circolazione e quindi capire su quali aree si potrà intervenire. Noi vogliamo intervenire sul centro storico per evitare che ci sia un continuo passaggio e quindi riservare quella parte di città piuttosto che istituire altre zone di parcheggio a pagamento perché qua la gente deve capire che bisogna andare a piedi piuttosto che utilizzare la macchina in ogni momento della propria necessità. C'è un'idea anche che è quella di predisporre una circolare, c'è un mezzo, un autobus elettrico che faccia il giro della città che consenta quindi di raggiungere i cittadini, raggiungere i vari punti della città e quindi di non utilizzare la macchina o di consentire a chi non può guidare di spostarsi per la città. La messa fa si appassi già nel giardino, nella villa. Signor Signor, lei ha parlato di piazza di Vagno, il signor Pinuccio, Pinuccio, si lamenta, ma che da fondere che sei a piazza di Vagno? Ce l'ha trima a fare per i cani, per bere l'acqua ai cani, per fare i bisogni cani. La togliamo, oggi ci facciamo un bel giardino, mettiamo delle piande, è una cosa più bella, è un schifo totale, mi ha detto. E poi via Roma, via Roma ci sono sedili a questa la fine della strada, dove c'è l'ex ospedale dell'anziano, non so che c'era quella, che è uno schifo totale. Ci sono dei piccioni che fanno la cacca da sopra, che poi c'è una bella barzelletta sui piccioni, non la voglio dire, ma che fanno la cacca, sporcono tutto, macchine, strade, sedi, la gente si può sedi. Siamo male bene con i sedi, non siamo nudi. O di chi è quella struttura, si desse da fare a pulire, a tagliare l'albero, a pulire, le zanzare ce ne sono già da adesso. E poi c'è anche delle giostre, che dicono, no, vicino alla stazione ci sono delle giostre all'interno di quella, sono abbandonate. Non è che lasciamo male bene che le giostre le partiamo andando avanti. Si utilizzano. Stanno là, stanno abbandonate, si stanno arruginando, si stanno rompendo. La fontana. Faccio una premessa. Il progetto iniziale di quella fontana, che è stata installata 4-5 anni fa, forse anche di più, era un altro. C'era prevista una rotonda al centro di quell'incrocio e al centro della rotonda doveva essere posizionata la fontana. Così non è stato, per motivi che non conosco, dopodiché si è pensato di mettere lì quella fontana. In effetti, così com'è, non è un bello spettacolo, perché quando c'è l'acqua quello diventa ricettacolo di immondizie di tutto, oppure diventa, come dire, un'area di servizi per i cani. Noi adesso vogliamo avviare a questo, anche perché ci sono problemi, vandrebbe realizzato un nuovo impianto per alimentare di acqua quella fontana e quindi questo significa sopportare dei costi. Abbiamo intenzione, senza mortificare, come dire, il progetto iniziale della fontana, in effetti di trasformarla in un certo punto in una fioriera, cioè di mettere il terreno e di mettere anche delle piante alte attorno proprio per evitare che i cani possano accedervi e fare quello che fanno. Questo per quanto riguarda quella fontana. Poi vedremo se sarà possibile realizzare il progetto originario, cioè quello della rotonda, però torniamo al problema del trattamento. Ci sono sempre i soldi, i terrestri, i terrestri. Ci sono sempre i soldi. E quindi ecco perché dicevo prima, noi dobbiamo andare a individuare quali sono le priorità, quindi scegliere, sapendo quali sono i soldi a disposizione, quello che dobbiamo fare prima e quello che dobbiamo fare dopo. Per quanto riguarda le panchine via Roma, dicevi... Un altro proposito, le panchine via Roma, secondo me, chi ha fatto il progetto, come si dice se due occhi, quattro occhi, vedono meglio, se potete l'acchiale, vedono ancora meglio, vedono ancora migliori di due. Perché se sono sostanzialmente nel verso, perché alcuni cittadini dicono, io quando guardo, devo guardare il passeggio delle persone, anche perché ritorniamo all'isola pedonale. Se via Roma era all'isola pedonale, andavano bene come stanno installati nei sedili. Invece non c'è l'isola pedonale, c'è le macchine di fronte, non vedono. Perché non li invertiamo, li mettiamo dall'altra parte, perché si vede, perché passa la malavagnetta, passa il piccinino, passa così, che conosce, un saluto, perché qualche saluto, facciamo così, ciao, 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 si girano tutti. Perché non li invertiamo, quelli sedili là? Poi andare incontro ai desideri di tutti, la soluzione sarebbe mettere le panchine girevoli, poi ognuno se la sistema come vuole, risolvere i problemi, perché a questo punto... Basta solo spostarle, girarle, girarle. E girarle, poi verrà qualcuno a dire che io voglio vedere le macchine che passano, quindi alla fine... Se no facciamo una sì, una no, una sì, una no, una sì e una no. Allora, su questo, per quanto riguarda il ricovero di mendicità, quella struttura che sta lì in fondo a Via Roma, una premessa, quello non è una struttura del comune, è dell'ente opere laiche palatine, che è un ente che sta trasformando la propria natura giuridica in fondazione. È evidente però che quella non può rimanere in quelle condizioni, anche perché c'è una situazione su cui è necessario intervenire. Di questo ho già parlato con il presidente delle opere laiche palatine, che è il dottor Vigilio. Nei prossimi giorni provvederanno una bonifica di tutte e due le aree, nell'attesa che riprendano i lavori di sistemazione ancora del ricovero. Là ci sono delle progettualità da parte delle opere laiche palatine, noi come comune abbiamo chiesto nuovamente l'utilizzo di quel parco, perché quel parco è anch'esso delle opere laiche palatine, veniva dato, come dire, incomodato d'uso al comune, quindi all'epoca i bambini ci potevano giocare. Per quanto riguarda quelle giostre, le stiamo valutando, ci sono alcune che sono inutilizzabili, altre che possono essere utilizzate e quindi saranno trasferite in piazza Garibaldi, in maniera tale che possono essere a disposizione anche quelle dei bambini. Nell'attesa appunto di aprire quantomeno le due aree a verde, che sono appunto attigue a ricovero di mendicità, c'è solo un problema di sicurezza, perché là c'è un cantiere, quindi in qualche modo andrebbe evitata la possibilità di chi fruisce di quelle aree a verde appunto di arrivare nella zona che è sostanzialmente ancora un cantiere. Torniamo al discorso di Destramurale Pozzo Zuccaro. La gente dice che gli ammortizzatori si sono rotti tanto, perché le biciclette non possono camminare, diciamo che con le biciclette la gente non può camminare, perché chi soffre di una disc, chi ha una discopatia, perché è un disastro. Destramurale Pozzo Zuccaro. Tra qualche settimana stiamo appaltando i lavori per rifare tutta l'estramurale e per rifare Piazza Kennedy. Tutto, o si sa in giro che è solo metà, sono arrivati i fondi solo per metà, perché la gente dice che perché metà è tutta, perché già sanno che... La metà è relativa al marciapiede, nel senso che la strada viene fatta tutta, viene fatta nel progetto del contratto di quartiere, è previsto il rifacimento solo di un lato, però è evidente che con l'economia noi lo vogliamo fare interamente, quindi voglio tranquillizzare su questo, perché è evidente che non possiamo lasciare una parte sì e una parte no. Quindi verrà fatta la via di Cassano fino a Piazza Kennedy, questo è il progetto relativo al contratto di quartiere che è dell'amministrazione precedente, io voglio dire, non ho difficoltà ad ammettere che questo è un progetto che è stato avviato dalla precedente amministrazione. Quindi a breve partiranno i lavori, quindi sarà rifatta tutta quella parte che va dalla via di Cassano fino a Piazza Kennedy, compresa Piazza Kennedy. Quindi sarà rifatto non solo l'asfalto ma l'intera strada, saranno rifatti i marciapiedi, tutta la viabilità, sarà riqualificata tutta l'intera via. Sì, sono l'ingegnere e io quando vedo che fanno il mando stradale c'è un problema d'acqua viva che io ho notato tanti anni fa, che dice Garibald che zima mette zima all'alto, no? Prendono l'asfalto, tolgono un millimetro e ne mettono dieci e il marciapiede diventa sempre più corto. Poi quando piove la gente, l'acqua supera il marciapiede perché non c'è un rialzo come leggi di 15 centimetri. Se l'ingegnere lo sa che ci dovrebbe essere 15 centimetri dal marciapiede all'asfalto. Non viene controllato da nessuno quando si fanno questi lavori. Io l'ho contattato da solo, con gli occhi miei, di questi lavori che sono stati fatti. Tanti lavori però alla fine hanno messo l'asfalto, non tolto due, ne hanno messo dieci. E il marciapiede diventa sempre più. Addirittura, piazza Vittorio Emanuele, il marciapiede non esiste più da una valla. Ah beh, è chiaro che questo fa riferimento alla qualità del lavoro che viene svolto. È chiaro che se non mettiamo strati di asfalti l'uno sull'altro, non solo non serve perché poi presto si andrà incontro a un disfacimento dell'asfalto. Ma evidentemente andiamo incontro ai problemi a cui tu facevi riferimento, cioè che alziamo le quote e alla fine questo provoca anche un problema nel deflusso delle acque. Quindi infatti abbiamo diverse inaliazioni di che nelle giornate di pioggia ci sono l'acqua che addirittura arriva nelle case proprio perché il livello stradale è arrivato a quota marciapiede. E questo è un problema che afferisce al controllo dei lavori perché quando si fanno i lavori di rifacimento del manto va fatta la scarifica prima, va abbassato e poi riportata a quota. Quindi è un problema che abbiamo sotto controllo da quando abbiamo cominciato a prendere in mano la situazione. L'altra cosa, le voci in giro si sentono che ci sarà un aumento del 30% riguardo alla tasso. La gente già sta saldando in armi perché chi paga 500 pagherà 650 e poi dopo tutto non viene fatto, pagano tanti soldi però la raccolta differenziata, le strade, qualcosa, non vengono fatte come si perché prendiamo il caso di via Roma, le palazzine in esse, dove alcuni cittadini si sono andata e dicono come non paghiamo la bondizia, non paghiamo la tasse, perciò un spazzino da dove non ci viene mai a tagliare l'errore sotto maggiapiede, non vengono per il zè, il comune, ah prendiamo il giardino che sta là, perché quella strada non è strada comunale, bensì non è strada privata ma è strada comunale. Il giardino là viene tutta la cittadinanza, vengono a portare i cani, vengono i bambini a giocare, vogliamo definire quei giardini, ah ci appartenono. Allora, parto da prima per quanto riguarda la questione dei rifiuti, noi siamo in un momento di transizione, è questo, cioè ci stiamo avviando a un nuovo appalto dei rifiuti, abbiamo avviato la procedura e questo significa evidentemente che in questa fase di transizione ci possono essere dei disguiti, questo non significa che il servizio funzionava bene prima. Dopodiché è vero che si è parlato di questo momento, però dobbiamo capire che cosa vogliamo, cioè se vogliamo un servizio di smaltimento dei rifiuti che sia ottimale e che sia veramente tale, è chiaro che servono dei soldi. Noi abbiamo in cassa poco più di 2 milioni per un servizio che in condizioni ottimali dovrebbe costare qualcosa come 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 6. È evidente che per arrivare a questo abbiamo la necessità, e questo stiamo valutando perché poi le spese per i servizi di smaltimento li si possono coprire solo con la Tarsu. Quindi in funzione di questo è evidente che poi se sarà necessario chiederemo ai cittadini di aumentare, di pagare un po' di più la Tarsu. Voi dovete chiedere ai cittadini di pagare in più, e quando un cittadino va a essere d'accordo a pagare di più? Beh va a essere d'accordo! Noi possiamo metterci d'accordo con i cittadini e offrire un servizio scadente, però questa deve essere una scelta. Se vogliamo un servizio buono purtroppo dobbiamo pagare di più, questo non c'è scelta, anche perché il servizio che stiamo prevedendo è il porta a porta, quindi sarà il raccolto differenziato, il porta a porta, spariranno i cassonetti della città e quindi voglio dire che anche dal punto di vista del decoro urbano decisamente sarà più gradevole. Significherà per i cittadini un impegno che sarà quello di imparare a fare la raccolta differenziata, perché poi sta a noi, ma più sarà la raccolta differenziata meno pagheranno i cittadini, perché abbiamo previsto anche sistemi di incentivazione, perché poi chi fa la raccolta differenziata è giusto che paghino. La tessera, la famosa tessera, la tessera appunto, come gli supermercati, tu più spendi più punti hai e meno paghi, diciamo, hai un regalo, voi anziché direi un regalo pagheranno di manetta, avete capito? Allora ragazzi, signor Cittadini da qua, cominciate a fare la raccolta differenziata, però non da adesso, perché se non si mettono... Adesso si può già cominciare a fare la raccolta differenziata, perché i cassonetti differenziati ci stanno, quindi se vogliono si può già cominciare a fare, quindi togliamo l'alibi a tutti che non si può fare, da oggi si può fare, i cassonetti per il vetro, per la plastica e per la carta ci stanno, quindi si può cominciare a fare, cominciamo da oggi a cambiare le nostre abitudini, presto quindi con il nuovo servizio invece di igiene urbana saremo obbligati, ci sarà la raccolta differenziata con un calendario per il ritiro differenziato del rifiuto e quindi questo servirà anche a noi di avere una città più pulita. Se serve è chiaro che ognuno di noi dovrà pagare un poco di più, però voglio dire che quelli saranno soldi e il cui utilizzo sarà possibile verificarlo quotidianamente da un servizio decisamente migliore. Abbiamo lasciato tutti gli argomenti, informazioni riguardanti i servizi, adesso torniamo all'argomento. Nel Consiglio Comunale, che io lo vengo sempre ad ascoltare, la gente dice, una volta, si dice, fai voi, voi, che hanno mandato il conflitto, voi. Allora, la cosa che voglio dire io, la gente dice, ora c'è il sindaco, ora c'è il sindaco, ora c'è il sindaco, però alla fine si aggrappa a qualcuno. All'ultimo Consiglio Comunale che ho visto, ho visto delle scene, non voglio fare riferimento all'assessore, al consigliere, che davano dimissione e poi si ritiravano, dicevi io non appartengo qua, ma sono...